check the mic and make sure it sounds right boys sandy vengato alza il volume pronto un due tre prova senti si 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 senti ascolta quando è il barcan cura di vengato ci si deve impecciare io me lo sono scritto al 14 tu mi hai detto ah al 14 non sono al 15 perché il 14 è un venerdì e saranno al 15 allora il 14 o il 15? io mi ero messo al 14 tu mi dici non è possibile che mi l'ha donati allora diciamo che è il 15 va bene? che è sabato ha senso che sia sabato se è un giorno solo facciamo sabato i tuoi giorni ci stanno ma un giorno grazie aspetta che spengo la registrazione ciao